Fosse accaduto oggi, Gavrilo Princip sarebbe uno dei personaggi più famosi del mondo. Chissà oggi dei più giovani chi fosse questo giovane nazionalista serbo che il 28 giugno del 1914, esattamente 100 anni fa, compì un gesto che ha cambiato il mondo e che ha avuto un effetto peggiore dell'attentato alle Torri Gemelle. Fece quello che oggi verrebbe definito un gesto terroristico. Con una pistola sparò ed uccise Francesco Ferdinando d'Asburgo Este, erede al trono del regno austro-ungarico, e la moglie, Sofì Ciotek von Ciotkova, che erano a Sarajevo in visita ufficiale per le solenni celebrazioni della festa nazionale serba. Fu la scintilla dalla quale scaturì esattamente un mese dopo quella che per i libri di storia è stata la prima guerra mondiale, ma che per i nostri nonni che l'hanno combattuta era la grande guerra. Un conflitto che segnò la prima metà del Novecento, meno impattante della Seconda Guerra Mondiale, ma non meno caro dal punto di vista delle vite umane perse. Da quell'attentato scaturì una crisi internazionale che nel giro di 30 giorni portò la Germania e gli Ohenzollern a convincere l'Austria-Ungheria a dichiarare guerra alla Serbia il 28 luglio. Cento anni fa, dunque, il casus Bellis, che portò l'Europa ad una guerra durata quattro anni ma che costò la vita ad oltre 24 milioni di persone, tra militari e civili, che portano la prima guerra mondiale ad essere considerata uno dei conflitti più sanguinosi dell'umanità. L'Italia, così come altre nazioni, entrò in guerra più tardi. Lo fece nel 1915 e lo fece in condizioni particolari. Furono anni durissimi quei primi del Novecento. Nel 1917, un anno prima della fine della Grande Guerra, scoppiò la rivoluzione russa che portò alla caduta dello Zari al regime comunista nell'Unione Sovietica. La guerra ebbe fine alle ore 11 dell'11 novembre 1918, le ore 11 dell'11.11, con la firma dell'armistizio a Compiegne. Poche ore prima, l'ultimo atto bellico fu una carica di cavalleria italiana a Vittorio Veneto su un esercito, quello austriaco, già in rotta e in ritirata. La Grande Guerra era finita, la storia dell'Europa moderna era appena cominciata, il tutto scaturito da quei colpi di pistola datati cento anni fa, dei quali la popolazione civile, a parte quella interessata, non seppe mai nulla. Neppure coloro che, imbracciando un fucile, si ritrovarono in una trincea a combattere una guerra senza sapere il perché. La colpa? Tutta di Gavrilo Princip e della sua voglia di autonomia.